we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi parliamo di tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e soprattutto i tantissimi regali che stanno per arrivare da 2000 cose parleremo dei regali delle fncs e delle qualifiche parleremo dei regali che arrivano con il compleanno di fortnite e di tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news ma ora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta del concerto dei bts sì perché questa notte la notte scorso ovviamente il concerto è stato fatto sul party royale e la mia domanda dato che io non ho avuto modo di guardarlo è come è stato ne valeva la pena di vederlo è stato sponsorizzato davvero tantissimo tanto da mettere nello shop come sapete qualche giorno fa le due emot per andare a celebrarlo sono davvero curioso di leggere i vostri commenti qua sotto perché ci ho creduto molto in questo concerto e dovrebbe essere stato qualcosa di davvero stupendo tra l'altro vi ricordo che oggi invece ci sarà il concerto sempre su party royale di slushy è un dj che io personalmente non conosco ma sappiamo che è un grande fan di rocket league e ovviamente oggi sappiamo che inizierà anche il lama rama ovvero sia la collaborazione la il crossover ufficiale di fortnite con rocket league sapete che era scaricabile ed è tuttora scaricabile gratuitamente l'avrete sicuramente già fatto importante perché adesso giocando su rocket league potete ottenere cinque ricompense per fortnite e altrettante per rocket league come sappiamo ci sarà lo spray di rocket league la hollow data drop con trail quindi la scia il rocket groove music track quindi il background musicale e poi la octane come back bling è un adesivo anche la ottene ragazzi la vedete proprio sotto di me è la macchina quindi davvero molto molto bella questa cosa di avere sia il gioco gratis che le ricompense mi raccomando ragazzi non dimenticate di provarci in modo da poterle ottenere e aggiungere alla vostra collezione ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché i regali come vi anticipavo non sono finiti ragazzi nuovamente arriva un tweet da parte di fortnite con tre torte di compleanno e con scritto tomorrow fortnite celebrates the third birthday join us for birthday challenges which includes free rewards è il compleanno numero 3 di fortnite ci sono tanti regali e voglio ricordarvi e farvi vedere innanzitutto quelli più comuni ovvero sia la nuova emote birthday bash quindi un simpatico balletto dove appare la torta di compleanno che poi molto divertente perché gli esplode il candelotto di dinamite ma arriverà anche completando le sfide lo spray del terzo compleanno e l'adesivo del compleanno con il cupcake vi ricordo che comunque le sfide non sono terminate perché ce ne saranno altre soprattutto quella di consumare le parti di torta che troverete in giro per la mappa e al completamento di tutte le sfide otterremo il backpack con la torta di compleanno e 80.000 punti esperienza che sono davvero comodissimi per riuscire a livellare il pass battaglia ma andiamo avanti di parlare del prossimo argomento di oggi come avete già visto si parla delle fncs i nuovi le nuove fortnite championship series che questa volta verranno giocate in trio arriva nuovamente un sacco di materiale che ci fa capire quello che dobbiamo fare hey fortnite fan the fortnite championship series kickoff starting soon get your trio quindi trova il tuo il tuoi due compagni di squadra e preparati stando attento ad aver raggiunto ovviamente l'arena campioni quindi dovete avere fatto i 6000 punti the first open stage in questo tornamento in questo torneo sarà il 9 ottobre venerdì for the mister for the middle east server quindi a noi non interessa inizierà invece l'otto ottobre per una questione diffuso orario ma noi interessava appunto quello europeo vi ricordo anche che le fncs vengono ovviamente trasmesse in live su twitch e alcuni streamer potrebbero avere i drop abilitati come vedete ragazzi ci sono delle ricompense che in realtà abbiamo già visto e che possono essere riscattate gratuitamente guardando per un po di minuti lo streamer che avrà i drop attivi questa è un'immagine che ci fa capire quali sono le ricompense il backpack ragazzi con il ditone quello viola simile a quello dell'ultima fncs lo spray e dovete dimenticare però la skin ragazzi questa non esiste è semplicemente stata inserita perché vi fa vedere come rimarrebbe sulla maglietta del nostro supereroe quindi mi raccomando poi state attenti a chi avrà i drop abilitati in modo da poter ottenere le ricompense e andiamo a parlare dell'ultimo argomento di oggi perché ieri ve lo avevo accennato l'altro ieri ve lo avevo accennato oggi riesco a dedicargli qualche minuto in più il nuovo bus della battaglia innanzitutto ve lo voglio far vedere in game per farvi capire un pochettino come sarà credo che bisogna immaginarlo con le ruote perché questo ragazzi è proprio il primissimo spezzone di gameplay del nuovo autobus che dovrebbe essere preso in considerazione abbastanza seriamente in quanto farà parte della storia e perché no potrebbe anche cambiare per quanto ci riguarda magari la funzionalità stessa dell'autobus ora io vi voglio ricordare una cosa qualche settimana fa avevamo parlato dell'arrivo di una nuova piattaforma di spawn nella fase centrale di questa season non sappiamo se per caso sia collegata con l'autobus ma sappiamo che queste sono le immagini e sappiamo anche dove verrà messo l'autobus prima di essere disponibile in game ovviamente se voi andate nel capannone delle stark industries Troverete già un autobus normalissimo della battaglia ecco di fianco prima che sia disponibile Nel nella pre lobby chiamate un pochettino così ci sarà questo autobus e che state vedendo ed è davvero molto particolare ovviamente indiscutibile la mano di tony stark questo colore rosso lo vediamo benissimo non sappiamo però quale sia la vera funzionalità insomma ragazzi o anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like Iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate alle 8 in live su twitch ciao